In questo tutorial andremo a svolgere delle espressioni contenenti angoli associati del tipo α π-α. Partiamo da questo esempio. Allora, innanzitutto vado a ricopiare tre coseno di α. Ho poi, come secondo termine, coseno di π-α e allora vado a sostituire con meno coseno di α. Ho poi meno seno di α e qui ho cotangente di π-α. La cotangente di π-α è pari a meno cotangente di α e allora scriverò meno 2 cotangente di α per seno di α. Infine, ho seno di π-α. Utilizzerò allora la prima formula e scriverò più 2 seno di α. Sommoro i termini simili, 3 coseno di α meno coseno di α ed ottengo 2 coseno di α. Ho poi meno seno di α più 2 seno di α e quindi ho più seno di α. Poi fisso l'attenzione su questo termine. La cotangente la vado a riscrivere come coseno di α fratto seno di α per seno di α. Posso semplificare in questo modo seno di α con seno di α. Quello che mi rimane è meno 2 coseno di α. Avendo qui 2 coseno di α, posso semplificare tutto e allora quello che mi rimane è seno di α. Svolgiamo quest'altro esempio. Fisso l'attenzione sul seno di 180 gradi meno α. Visto che 180 gradi in radianti corrisponde a π, allora posso utilizzare questa formula e posso sostituire seno di 180 gradi meno α con seno di α. La parte iniziale l'ho ricopiata così com'è. Fisso ora l'attenzione su coseno di 180 gradi meno α e allora, considerato che 180 gradi corrisponde a π, allora dovrò utilizzare questa relazione, ossia al posto di coseno di alfa, scrivo meno coseno di α. Avendo qui un altro meno coseno di α, scriverò più coseno al quadrato di α. Chiudo la quadra, meno 5 per... Il coseno di 180 gradi corrisponde a meno 1 e allora metterò un meno 1 tra parentesi tonde. Osservo ora che qui ho seno di α per seno di α, ossia se inquadro di α all'interno delle quadre, allora avrò seno di α più coso di α, che per la prima formula fondamentale della goniometria risulta essere uguale a 1 e 1 per 2 ottengo 2. Poi ho meno 5 per meno 1 e quindi scrivo più 5 e 2 più 5 è pari a 7. Risolviamo questa espressione. Come primo termine osservo che ho tangente di π meno α e posso sostituire con meno tangente di α per cotangente di α. Ho poi cotangente di π meno α. Cotangente di π meno α è pari a meno cotangente di α. Visto che qui di fronte c'è un segno meno, scriverò più cotangente di α per tangente di α. Osservo ora che questi due termini sono opposti tra di loro e allora li posso semplificare e quello che mi rimane è 0. Semplifichiamo quest'altra espressione. A primo termine ho seno di π meno α che posso sostituire con seno di α. Ho poi cotangente di π meno α che risulta essere pari a meno cotangente di α. Visto che qui di fronte c'è un segno meno, scriverò più cotangente di α per seno di α. Infine ho coseno di π meno α. Coseno di π meno α è pari a meno coseno di α. Riscrivo ora cotangente di α come coseno di α su seno di α. In questo modo posso semplificare seno di α con seno di α. Quello che mi resta è coseno di α. Qui ho meno coseno di α e allora li posso semplificare tra di loro. Quello che mi resta è seno di α. Vediamo quest'ultimo esempio. Fisso innanzitutto l'attenzione su cosecante di 180 gradi meno α. La cosecante di un angolo risulta essere uguale al reciproco del seno dell'angolo stesso. E allora andrò a scrivere coseno di α per 1 fratto il seno di 180 gradi meno α più seno di α per... Qui ho secante di 180 gradi meno α. La secante di un angolo risulta essere pari al reciproco del coseno dell'angolo stesso. E allora scriverò 1 fratto il coseno di 180 gradi meno α. Ho poi cotangente di 180 gradi meno α che risulta essere pari a meno cotangente di α. Qui ho un segno meno e allora scriverò più cotangente di α. Infine ho 180 gradi meno α. Utilizzerò questa relazione e scriverò meno tangente di α. Sostituisco ora seno di 180 gradi meno α con seno di α e coseno di 180 gradi meno α con meno coseno di α. A primo termine ottengo coseno di α su seno di α che risulta essere pari a cotangente di α. A secondo termine ho messo il segno meno che derivava dalla sostituzione dell'angolo associato e do seno di su coseno di α che risulta essere pari a tangente di α. Ricopio poi cotangente di α e meno tangente di α. Sommo ora i termini simili. Ho cotangente di α più cotangente di α e allora avrò 2 cotangente di α. e poi ho meno tangente di α meno tangente di α e quindi ho meno 2 tangente di α. E con questo termino il tutorial sugli angoli associati del tipo α pi greco meno α.